Chi si vaccina prima e chi dopo? Cosa deve fare un utente per accedere alla vaccinazione? Come si perfeziona la catena di preparazione delle siringhe rispettando le disposizioni sulle temperature e allo stesso tempo ottimizzando al massimo i tempi? L'avvio della campagna vaccinale contro il coronavirus trascina con sé una serie di argomenti che dovranno essere definiti nei minimi dettagli per garantire la massima efficacia ed efficienza alla chiamata all'autoprotezione. Inizialmente la sfida riguarderà soltanto la copertura di personale sanitario e anziani delle case di riposo ma con il passare delle settimane la sanità dovrà affrontare la vaccinazione di massa. Secondo le previsioni organizzative centrali e regionali dovrebbero arrivare poco meno di 2000 dosi ogni settimana. Siamo orientati a organizzare un sistema di chiamata attiva per i soggetti che saranno indicati come beneficiari per primi. È verosimile che venga utilizzato il criterio per quanto riguarda la popolazione generale dell'età inversa quindi iniziando dai più anziani per arrivare quindi ai più giovani. È chiaro che per vaccinare i molto anziani bisognerà far riferimento alla medicina di famiglia o ai medici dell'EUSCA per la vaccinazione anche a domicilio se quando necessario. Per il resto utilizzeremo molto il metodo driving. Ci si deve organizzare per poter garantire che tutte le dosi che vengono inviate da Roma possono essere sommestrate. Dipendiamo dalla loro disponibilità, dall'invio. Poi l'attenzione deve mantenersi molto alta proprio perché sappiamo che l'elemento fondamentale di tutto questo problema Covid è proprio il contagio. Il fatto di avere un numero via via poi più elevato di persone già vaccinate o comunque che vanno ad associarsi a quelli che il Covid l'hanno già purtroppo avuto, questo via via cresce quella che poi si chiamerà l'immunità di gregge, cioè quando si arriverà a un 70% abbondante di cittadini, di persone che l'hanno già incontrato.